vediamo subito quella quarta strategia che ci proponi qui continuiamo con una posizione short siamo sul su un cambio euro franco svizzero euro contro franco svizzero ci posizioniamo short quindi carta rossa come mai questa scelta qui probabilmente ti è arrivato qualche input anche sullo fronte dell'analisi degli istituzionali esattamente proprio sul cambio euro franco c'è un marcato trend ribassista nelle ultime settimane che è diciamo sostenuto anche dai volumi degli istituzionali motivo per cui credo che ci siano le condizioni per una continuazione di questo trend al ribasso che è visibile sul grafico di conseguenza penso che ci siano davvero le condizioni per fare un'operazione in linea con con il trend appunto proprio delle degli ultimi degli ultimi giorni ecco sono scivolate proprio negli ultimi giorni sotto l'importante soglia anche psicologica di 1 e 10 le quotazioni luca vediamo attualmente il cambio in area 109 65 arrotondando tu dove hai deciso di entrare al ribasso ingresso a 1,09 70 uno stop loss proprio sul livello chiave di 1 e 10 e un target una figura più sotto a 1,09 ok vediamo anche una leva abbastanza frizzante una 5,34 che sappiamo sul fronte del mercato i valutari a volte si può proprio aumentare la leva proprio perché tendenzialmente vi è una volatilità maggiore rispetto ad altre asset class